Il primo tempo è finito 0-0, adesso l'arbitro ha fischiato la ripresa del gioco del secondo tempo. La formazione messa in campo da mister Giovanni Di Giulio è in porta numero 1 Ucci Daniel. Numero 2 Fabio Masciarelli, ecco Enrico. Numero 3 Mammarella Alex, numero 4 Niccolò Dancelo, vicecapitano, numero 5 Manuele Caporale, numero 6 Lorenzo Cuniberti, il capitano detto Pitbull. Il numero 7 Alex Maramieri, il numero 8 Riccardo Delbello, numero 9 Enrico Caporale che si è mangiato un golo proprio negli ultimi sgoccioli della partita. Numero 10 Luca Rulli, numero 11 Alessandro Ramundi, 12 Lorenzo Dinella, 13 Alessandro Ramundi, 13 Alessandro Ramundi, 14 Alessandro Ramundi, 15 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 Alessandro Ram